ragazzi no no il titolo è serio il titolo è serissimo io non vedo l'ora di andare fuori giovedì ma io spero che giovedì la roma ne faccia sei peccato vi ricordate i quarti di finale contro deportivo la corugna ecco questo in confronto non deve essere niente giovedì la roma ce ne deve fare sei giovedì a roma giovedì ci devono rispedire a milano a calci in culo a calci in culo e io ragazzi non vedo l'ora sto contando i giorni perché la roma ci rispedisca a milano con 4 5 6 gol fatti e ragazzi l'ora è arrivata ed era inevitabile che arrivasse e questa ragazzi è la resa dei conti in faccia alla gente che da quel famoso milan sassuolo 2 a 5 si sta in massa disiscrivendo dal mio canale mi sta dando del pagliaccio interista mi sta dicendo le peggio cose perché non vogliono vedere la realtà e io su queste cose ragazzi ci godo un casino sapete che c'è è giusto così e io godo più di un romanista godo più di un romanista perché oggi vengono tutti i nodi al pettine ma i nodi al pettine aspettate che ne verranno altri lunedì perché ci sarà tutto un altro discorso da fare e lo faremo quando l'inter vincerà 3 4 a 0 non vi preoccupate quando abbiamo passato il turno col temibile ren e il temibile slavia praga che vi ho detto ragazzi prendere tre gol dallo slavia praga è grave prendere tre gol da ren è grave va bene ma tu non apprezzi devi sempre criticare detto ragazzi io critico perché poi quando arriviamo in fasi più avanzate che incontreremo una squadra liverpool roma l'everkusen che di tiri in porta te ne fanno fare uno a partita poi succede che vai fuori hai fatto un tiro in porta all'andata hai preso una traversa hai fatto un tiro in porta a ritorno hai preso gol e hai fatto gol un gol che conta meno di zero ragazzi mio nonno diceva a pensar male a a pensar male si commette peccato ma ci si azzecca sempre questa è la carissima frase che diceva mio nonno evidentemente questa frase non è mai passato di moda a pensar male si commette peccato perché io secondo alcuni tifosini del milan sono un peccatore assurdo però ci sia sempre ragione avete voluto non esonerarlo dopo il 5 a 2 col sassuolo l'anno scorso l'avete pagata col quinto posto in campionato e l'avete pagata con la semifinali di champions league dove ci hanno risperito a casa l'altra parte di milano con un bel 3 a 0 dove io con tutto rispetto l'anno scorso se in semifinale ci fosse andato in napoli di spalletti io sono convintissimo che in finale di champions league ci sarebbe andato in napoli sicuro non l'avete voluto esonerare dopo il 5 a 1 con l'inter vi siete beccati tutta la carrellata di merda che è arrivata dopo non l'avete voluto esonerare dopo la sconfitta con juventus col psg con l'udinese dopo il parigio con lecce dopo il parigio con napoli l'avete pagata con la sconfitta con l'atalanta col bruce d'ortmund non l'avete voluto esonerare lì l'abbiamo pagata con l'uscita dalla coppa italia veramente ridicola non l'avete voluto esonerare l'abbiamo pagata con la sconfitta col monza non l'avete voluto esonerare dopo monza abbiamo pagata con la sconfitta di giovedì non lo volete esonerare adesso lo pagheremo lunedì prossimo ragazzi io vi ripongo la stessa domanda che è stata pure il titolo di un video a quattro giorni fa cosa vi costava esonerarlo ottobre e dici chi prendi perché la domanda è lecita ragazzi chi prendi la roma chi ha preso la roma preso uno che è stato esonerato dalla spalla ragazzi che quando piogli è arrivato al milan che era ancora calciatore in due partite non è che gli ha fatto vedere sorci verdi oltre sorci vetri ha fatto neanche vedere palla anzi gliel'ha fatta vedere ma ha detto la vuoi la palla nella tua meta a campo al massimo ci sono le linee di fondo se vuoi calciare questo gli ha fatto dei rossi appioni gliel'ha impacchettata la giocata sulla difensiva ha sfruttato tutti i buchi che lasciamo a partita l'abbiamo lasciati al sassuolo non li lasciamo alla roma certo che li lasciamo gliel'ha impacchettata e l'ha rispedito ragazzi se ci fossero altre sei partite per recuperare sto risultato il milan non lo recupera non lo recupera ma ripeto ragazzi è giusto così va bene io sono contento io godo più di un romanista perché adesso il romanista si deve affrontare dopo tutta la gioia possibile si deve affrontare l'everkusen che io farei un pochino d'attenzione il milanista si affronta l'inter poi la stagione è finita ti rimangono quattro cinque partite di campionato le giochi a ritmi bassi a non farti male magari cerchi di vincerle per dare il ben servito a pioli per almeno farli chiudere con una vittoria ciao ma a non rivederci a non rivederci ragazzi c'è una persona così guadagna due milioni e mezzo all'anno un allenatore che ti prepara una partita così perché vogliamo parlare di tutti tutti allora ho talmente tante cose a dirvi che ci sto sbollendo allora ho ricevuto un commento di uno che evidentemente deve aver avuto un'infanzia piuttosto difficile non voglio fare nome perché poi si rischia il penale però ha tratto il commento è pure nascosto quindi sono andata a cercare non lo troverete però leggendolo si sa chi mi riferisco questa persona ci scrive cazzo dove dove è finito dove è finito vabbè sostanzialmente questa persona ci ha scritto dopo aver visto questo video riconfermo la mia idea che certi tifosetti da quattro soldi me metterebbero ancora gente come giampaolo montella e cinesi in società il problema sai qual è è che noi io adesso la sparo ma noi siamo ai livelli di giampaolo e montella solo che ci abbiamo una squadra con dei giocatori assai buoni e quindi se anche alla guida della squadra c'è un ebete i giocatori buoni la partita te la portano a casa a volte con le individualità ti portano la partita a casa come quella con la Lazio come la Fiorentina o magari ti fanno anche il gol di stasera o te la rimetto non piedi a sassuolo perché a sassuolo sono convinto che con una squadra come quella di cinque anni fa avresti perso 3 a 0 sicuro sicurissimo questo dovrebbe far capire ancora di più il potenziale di questa squadra e il potenziale che questa squadra non sfrutta perché non c'ha nessuno alla guida è come prendere ragazzi ora non faccio paragoni però a volte le esagerazioni servono per far capire certe cose prendiamo Messi, Ronaldo, Mbappé, Holland, Yashin, tutte le icon di FIFA le mettiamo in una squadra e le facciamo allenare D'Aldo, Giovanni e Giacomo cosa fanno? Cosa fa questa squadra? Fa schifo falle allenare da un allenatore normale guarda Ancelotti ieri sera cosa ha fatto Ancelotti è andato a Manchester dove l'anno scorso ci ha preso 4 pere si è messo dietro l'ha portata a rigori e l'ha vinta una partita dove il City ha fatto 90 azioni e ha trovato un gol i campioni d'Europa hanno fatto 90 azioni e hanno fatto un gol solo stasera Roma ha fatto 3 azioni e ha fatto 2 gol ti hanno pure lasciato in 10 contro 11 e tu ragazzi non hai combinato un cazzo e a quel punto ti dici ma è giusto che mi meriti di perdere? è giusto che tu ti meriti di perdere? io a questa persona, questa persona con l'infanzia è un po' difficile gli ho poi risposto che guarda che con maniera molto educata ha detto guarda che se Milan va male è anche per il colpo di gente come te perché voi continuate a difendere una persona che è oggettivamente più di un anno che sta facendo schifo il Milan poiché basta guardare la maglia non serve con una scelta la maglia leggere 19 scudetti e 7 copri dei campioni non si vede ricordi però una squadra con una storia così deve puntare a avere il meglio in campo, in panchina, in tribuna, in società deve puntare a avere il meglio e forse la panchina è il primo è il primo posto dove veramente non puoi sbagliare il colpo perché in due anni ragazzi di esempi di allenatori che hanno fatto bene ne avete avuti a valanghe a valanghe ragazzi avete avuto l'esempio di Spalletti che ha preso un Napoli forte ma l'ha reso ancora più forte gli ha fatto vincere il campionato con 90 punti suonati quest'anno la stessa squadra senza il difensore centrale sono esimi in campionato la Roma che ha perso tutto quello che poteva perdere ha preso l'allenatore alla primavera è risalita la Lazio che anni fa esonerò proprio l'imbecille di Pioli per prendere Inzaghi che quest'anno Inzaghi li sta facendo vedere Sorci Verdi gli ha vinto 5 derby in faccia di che vogliamo parlare ragazzi? ogni tanto assumersi il rischio non funziona a me pare che funzioni io veramente mi chiedo boh io mi chiedo veramente io vorrei veramente fare una domanda questa domanda è veramente l'ultima volta che ve la faccio vi prego gente che difende i Pioli mi scrivete qua sotto perché scrivetemi le vostre ragioni perché lo difendete perché volete che rimanga al Milan cosa ha fatto Ribello lo scudetto non conta lo scudetto non conta cosa ha fatto Ribello e perché meriterebbe una riconferma e perché non deve essere cacciato ditemelo perché io non riesco a trovare una risposta e più non trovo una risposta più la barca affonda io non sono uno che porta sfiga non sono uno che parla le cose succedono perché porta sfiga non sono uno che c'era che ti fa contro non sono un pagliaccio interista non sono uno che ce l'ha con voi io sono uno che guarda le partite di pallone che analizza le situazioni e che sa già in anticipo quello che succede perché di queste situazioni ne ho piani le palle e ne sto le sto vivendo da un anno e mezzo e da un anno e mezzo che dico che questa storia deve finire continua a non finire e continua a peggiorare quando poi si arriverà il momento in cui avremo un allenatore migliore che farà che dirà un allenatore con la maiuscola come all'Inter come al Bologna come anche la Roma perché De Rossi ragazzi a Roma farà la storia siccome ci sono tanti tifosi della Roma che guarderanno sto video io ve lo dico io sono contento per quello che avete fatto e vi dico che prossimo anno con un allenatore così giusto se magari comprate un port un'altra svilare a un buon portiere ma se vi comprate un portiere e qualche rinforzo magari al centrocampo la Roma il prossimo anno si gioca lo scudetto tanto ci azzecco sempre allora vi dico che il prossimo anno la Roma si gioca lo scudetto si se lo gioca se lo gioca ah e attenzione alla Juventus perché adesso hanno capito che anche Allegri magari l'ora che si tolga dalle palle e sicuramente non prenderanno l'ultimo scemo non scommetteranno solo come Pioli la Juventus quindi attenzione anche lì ragazzi ci vediamo domattina con la live reaction adesso me la monto tranquillamente chi si è visto si è visto ragazzi statemi bene alla prossima sempre Forza Milan sempre Pioli Out ieri oggi e domani ciao a tutti